Negli ultimi anni c'è stato un lento cambiamento nelle preferenze degli italiani. Qualche anno fa andavano tanto di moda station wagon e monovolume, che ora sono state rimpiazzate dai SUV. Ce ne sono tantissimi sul mercato, una vera e propria invasione. Peugeot 3008 fa parte di questa nuova ondata di veicoli di generose dimensioni. Oggi andiamo a scoprirlo nel nostro Garage Brum Brum. Colpisce per lo sguardo aggressivo Peugeot 3008, il muso è alto e prominente, le fiancate muscolose, bella la fanaliera a sviluppo orizzontale con le classiche luci a led. Nel posteriore invece troviamo i gruppi ottici che sembrano far parte di un pezzo unico con il lunotto. La lunghezza è di 447 cm, larghezza 184 cm e 164 di altezza. Dimensioni importanti, a guadagnarci naturalmente è lo spazio a bordo. Plancia assolutamente originale e futuristica, il concetto alla base si chiama i-cockpit, un insieme di tecnologie che si fonda su tre principi chiave. Volante ridotto, maneggevole e pratico. Quadro strumenti rialzato che permette al guidatore di non distogliere mai lo sguardo dalla strada. Ampio touchscreen nel mezzo dove sono riuniti tutti i comandi, da l'infotainment alla ventilazione. Seduta alta, al volante si domina la strada. Si sta comodamente in 5 a bordo anche le bocchette dell'aria e due porte USB. Quanto al bagagliaio, la capienza è di 520 litri. La vettura di questa recensione è equipaggiata con il motore 1.6 diesel da 120 cavalli. Peugeot 3.8 su strada si dimostra brillante. Non fa sentire il peso di un SUV. L'assetto non è troppo rigido e garantisce una buona precisione di guida. È piacevole stare a bordo di 3.8. Le sospensioni sono tarate e con cura. La macchina è reattiva anche nei tornanti grazie allo sterzo rapido e diretto. Il piccolo volante è molto comodo tra le strade cittadine. Regala ottimo feeling e un po' di sportività. Equilibrata la spinta del motore che si rivela molto silenzioso e permette di parlare senza problemi con i passeggeri. Affidabilità, straordinaria tenuta di strada, tanta tecnologia utile e abitabilità eccelsa. Questi sono i fattori cavie di Peugeot 3008, un prodotto assolutamente ben riuscito. Non perdetevi i nostri video. Iscrivetevi al canale Brum Brum per restare sempre aggiornati. Grazie.